Strada dei Parchi chiede nuove prove di carico con un incidente probatorio nell'ambito del procedimento penale di innanzi il Tribunale dell'Aquila a carico dell'imprenditore Carlo Toto, patron dell'omonimo gruppo che controlla Strada dei Parchi concessionaria delle autostrade a 24 ed a 25. L'udienza di questa mattina davanti al GUP del Tribunale Aquilano, chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica, è stata rinviata il 26 di febbraio. Il giudice si è riservato di decidere anche sulla costituzione di parte civile dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, mentre non si è presentato il Ministero dei Trasporti. Per l'ANAS, che ha fatto richiesta di ammissione a parte civile, il giudice si è riservato con ordinanza. La difesa di Toto però ha contestato la richiesta di ANAS perché ci sarebbero sentenze che hanno stabilito che in questi casi l'ANAS non ha diritto alla Costituzione Autonoma rispetto al Ministero. Toto è sotto inchiesta, insieme ad altri tre dirigenti dello stesso gruppo, e la Procura Aquilana contesta loro, a vario titolo, i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, inadempienza e frode nelle pubbliche forniture. I PM si riferiscono alla sicurezza strutturale e sismica dei ponti e dei viadotti nei tratti ricadenti sul territorio aquilano, in particolare sul pericolo di crollo totale o parziale delle pile e degli impalcati di 9 dei 25 viadotti. Oltre al filone aquilano ce ne sono altri aperti a Pescara, Sulmone e Teramo che riguardano la corretta manutenzione dei tratti autostradali. Abbiamo preannunciato al giudice la nostra richiesta di incidente probatorio, ha spiegato l'avvocato Gian Domenico Caiazza, legale di strada dei parchi, al termine dell'udienza di questa mattina. Una richiesta affinché si svolga una perizia utile a confermare non solo che non c'è carenza di manutenzione, spiega ancora Caiazza, ma che non c'è il benché minimo rischio per la circolazione stradale su A24 ed A25. L'avvocato ha spiegato anche che ci sarebbe una perizia d'ufficio del Tar del Lazio che già conclude in questo senso che, a differenza di quella del pubblico ministero, ha fatto le prove di carico. In riferimento al fatto che siano le tre procure abruzzese di indagare, l'avvocato Caiazza ha chiarito che indagano tutti sulla base di un'unica denuncia, cioè degli esposti presentati dall'Associazione Ambientalista ed in particolare dal Forum dell'Acqua Abruzzo, che definisce una vergogna la decisione del Ministero dei Trasporti di non costituirsi per ora nel procedimento in corso al Tribunale dell'Aquila. I dirigenti del Ministero, in particolare Migliorino, scrivono i rappresentanti dell'Associazione, hanno puntualmente rilevato gravissime inadempienze del concessionario. Evidentemente fare chiarezza e giustizia, conclude il Forum dell'Acqua, non interessa a questa politica.